Musica E' aspettato al Conservatorio di Benevento Nicola Sala l'onore di concludere le celebrazioni per il 158esimo anniversario della Polizia di Stato. L'orchestra di Fiati, diretta dal maestro Claudio Ciampa, si è esibito in un repertorio di composizioni e colonne sonore, trasportando gli ascoltatori in un viaggio intorno al mondo, dal Belgio agli Stati Uniti, mescolando l'atmosfera tipica delle bandi musicali con lo stile western, rock e jazz. Si è conclusa così da tre giorni di festeggiamenti, tre giorni in cui è stato posto al centro la polizia e soprattutto il ruolo centrale delle donne, entrati a far parte del corpo 50 anni fa. Musica 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 Musica